Adoro volare giù dei gap, concentrarmi sul trick, focalizzarlo, vederlo, combattere le mie paure. Non sempre è facile e devo isolarmi dal resto del mondo. Io e la mia tavola siamo una cosa sola e quando lo chiudo... Quando lo chiudo è solo grazie alla mia gente, a chi crede in me, a chi mi supporta e mi ispira ogni giorno. E' lei che mi spinge a provare uno nuovo, a superare ancora i miei limiti. E' così che io vivo lo skate. Grazie a tutti.